C'è un comitato molto importante, si è ribadita una straordinaria, importante ed efficace cooperazione istituzionale nella nostra città che è importante perché rende la città più solida e più tranquilla. Non c'è nessun segnale specifico sulla città di Napoli, c'è semplicemente quello che sta accadendo in Europa e nel mondo, c'è quello che è accaduto a Berlino, ci sono delle direttive molto chiare del Governo e del Ministero dell'Interno, quindi sono delle precauzioni per rendere ancora più tranquillo il Capodanno e l'ultimo dell'anno, quindi non c'è nessun allarme, anzi la città di Napoli registra un momento straordinario di accoglienza, di convivenza e di segnale forte di pace, che in questo momento il miglior antidoto al terrorismo è costruire ponti di dialogo e di pace. L'ha detto il Papa, noi lo condividiamo e sono sei anni che facciamo politiche di questo tipo. Ecco perché in un scenario internazionale così complesso Napoli rappresenta un modello e un punto di riferimento di cooperazione istituzionale, di turismo, di cultura, di accoglienza e di solidarietà. Questi sono strumenti altrettanto importanti nella lotta al terrorismo, non c'è solo l'intelligence, non c'è solo la prevenzione istituzionale, c'è la prevenzione sociale, politica, culturale e popolare. A Napoli anche, chiamiamolo così, il controllo popolare e sociale rende ancora di più tranquilla la nostra città. Quindi godiamoci questo momento nella nostra città che è di grande vivacità e di grande vitalità e come ho detto ieri in comitato straordinariamente bella quella culla umana di persone che attraversa tutti i vicoli della nostra città. Detto questo ci facciamo carico anche del problema dei residenti.